Buongiorno, buongiorno da dottor Claudio Saracino da Benessere, ipnosi soluzione, ipnosi di CS vera e professionale con la vipaiuscola ragazzi scusate oggi rido perché accanto a me è una persona speciale di cui non faccio il buon nome perché non vuole uscire e quindi niente, oggi il titolo dell'episodio è Pozzo, tu lo sai meglio di me che esistono diversi tipi di pozzo Pozzo artesiano, Pozzo normale, Pozzo che scavava tuo nonno, mio nonno a mano con il piccone eccetera eccetera per trovare l'acqua perché ti racconto la storia del Pozzo? Perché più vai in profondità nelle viscere della terra più trovi l'acqua e così pure più vai in profondità nella tua mente, nel tuo cosciente più trovi la soluzione a tutto ciò che ti riguarda tutti i tuoi desideri, ambizioni e compagnia bella e soluzione ai tuoi problemi, alle tue condizioni che magari non sono il top del top e l'ipnosi dicesse vera professionale con la V maiuscola ragazzi è il top del top, lo dico io il sottoscritto perché le ho provate tutte tutte, tutte, da più di vent'anni a sta parte dal 2008 ho sposato il metodo della dottoressa Alinea Brunini e del dottor, il professore dottor Big Angle grade di Los Angeles Beverly Hills, un metodo ragazzi che io ho coniato col metodo dicesse, il mio metodo perché ho messo un 30% delle mie esperienze dirette e indirette, non plus ultra che va contro tutti i bla bla che trovi in giro contro, 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 nel senso che è contro intuitivo non è come l'ipnosi da spettacolo, l'ipnosi fuffa, l'ipnosi paura è la stessa ipnosi conformista e commerciale d'accordo? per cui non credere a nessuna parola del sottoscritto devi soltanto fare azione magari anche provando, scaricandoti un audio MP3 di CS che può fare al caso tuo e scopri la tua acqua, la tua sorgente scavi nel pozzo della tua mente e le suggestioni di CS non hanno nessun effetto secondario o collaterale sono molto potenti, naturali e create ad arte, ad hoc d'accordo? non credere a me ma leggiti tutte le testimonianze fammi tutte le domande del caso e capirai il perché quindi il pozzo che tu devi scavare è il tuo pozzo per trovare la tua luce e la tua acqua prima che sia troppo tardi per te o per il tuo caro fammi tutte le domande del caso visita la mia fanpage su facebook ipnosi o ipnosi del dottor Claudio Saracino il mio sito è internet www.ipnologiassociati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi, soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino e fai share e condividi con amici e parenti perché può essere quel guido, quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche sugli altri social, instagram e twitter benessere ipnosi, soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino un bacio e un abbraccio e trovo il tuo pozzo ciao